60 tiratori del gruppo sportivo Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si sono dati appuntamento in questi giorni all'impianto di tiro a volo di Monte Schiantello per disputare il loro campionato italiano in ogni categoria per le specialità Fossa e Skit. I partecipanti provengono da tutte le regioni d'Italia e sono coordinati dal capo dipartimento di Urbino che ha il piacere di aver ospitato l'evento. Sì, è un bel evento, è già la seconda edizione che facciamo qui al campo di tiro a volo di Fano e questo è il quindicesimo campionato di Fossa Olimpica e il quinto di Skit. Sono un totale di 60 atleti che ruotano in queste due discipline Skit e Fossa Olimpica e sono ospitati qui a Fano, quindi dormono qui nei vostri agriturismi e alberghi per tre giorni e oggi è cominciata la gara e si contengono il titolo di campione italiano dei Vigili del Fuoco. Oggi prime sessioni di tiro in cui l'impianto e le sue strutture hanno dato agli atleti presenti l'ospitalità e l'accoglienza necessaria per poter disputare una competizione ad altissimi livelli. È un ritorno perché l'abbiamo già avuti due anni fa e a grande richiesta sono venuti a tornare a Fano con nostra grande soddisfazione perché significa che si sono trovati bene e hanno trovato l'impianto adatto a loro. L'impianto sportivo inoltre a dimostrazione dell'alto tasso tecnico della struttura ospiterà venerdì prossimo un evento con gli studenti e gli atleti olimplici di tiro. Vengono qui a Fano i nazionali con i ragazzi dell'università di Urbino e sono 65 ragazzi e qui ci sarà Jessica Rossi, Johnny Pegliello, De Filippis e Innocenti con il selezionatore della nazionale Cenci Mirko e tutto lo staff della Fiocchi.